Un accordo per completare il tratto aretino della ciclopista dell'Arno, in particolar modo l'intero percorso che va da Stia a Ponte Buriano e finanziare la manutenzione e la promozione del primo stralcio già realizzato, a firmare l'intesa l'assessore regionale all'infrastrutture Vincenzo Ceccarelli e rappresentanti dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, assieme a quelli di altre amministrazioni comunali della provincia di Arezzo. I lavori stanno procedendo un po' su tutta l'asta dell'Arno, in questo caso abbiamo sottoscritto un'integrazione al protocollo che ci consente di finanziare la progettazione del secondo lotto per quanto riguarda la ciclopista dell'Arno nell'ambito della vallata del Casentino, quindi nel tratto che va da Stia, Parco Nazionale Foreste Casentinesi e arriva sino a Ponte Buriano ad Arezzo. Si compone di tre lotti, oltre un primo lotto che è già stato realizzato, il secondo lotto è in fase di appalto e a primavera inizieranno i lavori, con le risorse che andiamo ad assegnare ora a fine anno sarà progettato un ulteriore lotto e poi rimarrà soltanto l'ultimo, quello che da Subbiano arriva a Ponte Buriano. Si tratta complessivamente di un intervento di 4 milioni e 350 mila euro, dei quali 2 milioni e 7 messi a disposizione a Stralci da parte della Regione. Quindi i lavori stanno proseguendo, contemporaneamente ai lavori procede anche la progettazione dei lotti successivi, siamo in linea con quello che era il cronoprogramma che ci siamo imposti, nel frattempo anche i treni nuovi attrezzati per portare più biciclette sono arrivati, quindi direi che le cose stanno andando bene da questo punto di vista.